L'hotel Presolane è chiuso da anni ma presto sarà riaperto grazie all'iniziativa dell'imprendatore, il commendatore Santino Galbiati che oggi vi possiamo presentare. Come mai hai scelto il nostro territorio? Il territorio perché sono venuto l'anno scorso grazie all'ingegnere De Luisi che è un vostro, è qui all'abitazione qui alla Presolana e mi ha fatto vedere questa struttura e devo dire che come uno guarda questa struttura si innamora. Non so perché si deve innamorare che di solito nel commercio non bisognerebbe mai innamorarsi, invece questo mi sono preso così. Poi ho spinto l'ingegnere De Luisi che si può fare, che si può fare visitando questo albergo che è chiuso da 15 anni ma aveva 20 anni fa quando l'hanno fatto, era all'avanguardia come è all'avanguardia ancora adesso. Lei in poco tempo quindi ha deciso di acquistare questa struttura e già i lavori sono iniziati o perlomeno sono prossimi all'avvio definitivo? No, i lavori sono già iniziati e dobbiamo demolire tutto quello che ci sono nei sotterrani, nei piani bassi perché giustamente sotto dobbiamo creare una sala congressi per 400 posti o 480 perché sono due. Poi ci saranno tutte le salette vicino alla sala congressi da 20 posti, 25 perché io penso che anche questa struttura dovrà lavorare con i co-ingressi avendo Bergamo, che io mi auguro che Bergamo sia una città, visto che è la città più ricca d'Italia, farà ancora i congressi. Bergamo, Brescia e poi anche Milano perché da Milano un'ora e quarta, un'ora e mezza si è qui. In 2015 ci sarà l'Expo? In 2015 ci sarà l'Expo però io penso che noi come Expo sarà difficile oppure che i nostri politici mettano dentro anche Bergamo ma sarà difficile. Mai dire mai serviranno anche gli alberghi della nostra zona con tutta probabilità, ci può dire magari quanto ha speso, ci può dire qualcosa in merito? Per che cosa? Speso per l'acquisto della struttura e perlomeno quanto pensano di investire? Guardi che qui devo dire che l'ingegnere De Luigi e gli altri soci di questa società sono stati splendidi, perché dicevano i prezzi facciamo, poi facciamo, poi adesso devono ristrutturare loro tutta la struttura, devono costruire altre 60 camere, che l'amministrazione comunale è stata splendida a dare subito il permesso. Perché quando io ho fatto questa consulenza dicendo che ormai sarà fallito, è fallito questa struttura, enorme perché è grande, con 58 camere è troppo piccola. E allora così l'amministrazione comunale ha detto ma quante camere volete? Ok, fateli così la struttura parte con 108 camere, capisci che 108 camere è una struttura valida. Poi ci saranno tante attrezzature sportive, so che non avete ancora definito tutto, ma cosa pensate di fare? Ma attrezzature sportive, intanto qui è dotato di due super piscine, questo albergo, proprio due piscine bellissime, è dotato di un centro di fitness che io ne ho visti di alberghi, ma con tutta l'attrezzatura che c'è è ancora tutta valida con l'attrezzatura. Poi faremo tutta la spa, una spa è da fare nuova perché la sportiamo e poi c'è dentro un campo pratica del golf, che non so, io ho già chiamato gente esperta del golf per dire se può essere utile o non utile e devono darmi le risposte definitive. Ma io penso che questo albergo, e poi creiamo questo bar, il doposcito del bar, che oggi penso che sia importante per tutti, perché uno quando finisce di sciare alle 3 alle 4 deve trovare questo ambiente per divertirsi a tirare le 8 di sera. Grazie.